Nel solo mese di gennaio ha messo a segno due rapine nel giro di pochi giorni. Poi si è trasferito a Rimini nella speranza di trovare un lavoro vero e magari di farla franca. Ma non è andata come sperava Don Molfettese di 33 anni già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trani. Le manette sono scattate a seguito delle indagini avviate dai militari in merito a due episodi di rapina che si sono verificati circa sei mesi fa a Molfetta. Il primo è avvenuto in un ristorante del centro cittadino dove l'uomo ha fatto eruzione a volto scoperto e armato di pistola costringendo una dipendente e la proprietaria a consegnargli l'incasso pari a circa 20 euro. Pochi giorni dopo il malvivente è tornato a colpire prendendo di mira un appartamento dove si stava per svolgere una festa privata. Anche in questo caso sotto la minaccia di una pistola nascosta nella cintola dei pantaloni si era fatto consegnare 250 euro dal padrone di casa dopo averlo costretto a prelevare i contanti da uno sportello Bancomat nelle vicinanze. Passata qualche ora su indicazione della vittima e di alcuni testimoni il giovane rapinatore era stato bloccato per strada con ancora addosso parte del bottino. Grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza acquisite in occasione del primo episodio gli investigatori sono riusciti ad incastrare il 33enne poi rintracciato in un albergo della cittadina romagnola dove si era da poco trasferito in cerca di occupazione. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere. Dovrà rispondere di rapina aggravata.